Senza bar era un disetto. Che mancava? Era un paese morto. Senza bar. Almeno c'avevamo un posto dove incontrasse. Un caffè in compagnia, quattro chiacchie, era una partita a carte. Dopo due anni di chiusura, Porchia riapre lo storico bar della piazza e la comunità della piccola frazione di Montalto delle Marche, nel Piceno, ritrova la sua normalità. Merito di un gruppo di cittadini che si sono messi insieme, dando vita alla cooperativa di comunità Santa Lucia e si sono rimboccati le maniche per riaprire il caffè del Torrione e rilanciare la socialità di un paese a rischio spopolamento a causa del sisma. Abbiamo deciso di creare questa cooperativa per dare qualcosa da fare anche a tutti questi cittadini anziani che si trovano sul territorio e non avevano più voglia neanche di uscire di casa. Quando questo bar non c'era si ritrovavano anche lì dal meccanico oppure anche la domenica mattina c'era una signora anziana che faceva il caffè per tutti e si rincontravano così. Quindi adesso sono molto felice di aver aperto questo luogo e infatti vengono tutti i giorni. A frequentare il bar di comunità non solo gli anziani ma anche i giovani che qui hanno trovato un punto di aggregazione. Anche per noi è un luogo di ritrovo in più invece che magari andare fuori nel nostro paese dove siamo nati e è bello. Punto di incontro tra giovani e meno giovani. Il bar di Porchia è davvero un bar di comunità gestito dalla comunità ed è solo uno dei tanti progetti in cantiere per far rinascere il borgo. È soltanto il primo tassello di una serie di cose, di iniziative che vorremmo fare in questo tipo di paese quindi eventi volti alla cultura, al paesaggio, all'inclusività. Questa è la parola che vorremmo maggiormente usare per questo nostro impegno.